Ciao a tutti vecchi cuori bianconeri, oggi siamo qui per affrontare tre diverse tematiche, abbiamo tre argomenti di discussione, quindi avremo la possibilità anche di svariare, di non limitarci al mero juventinismo come al solito, perché? Perché dobbiamo commentare anche un po' quello che è successo ieri sera in Finali Conference League, dato che è la seconda finale europea che si è giocata, ora ne manca solo uno, la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund, e come ben sapete io sono dalla parte di Terzic, sono dalla parte di Marco Reus, sono dalla parte del Borussia, sarei contentissimo di vedere un outsider come il Dortmund alzare la Champions, vedremo sabato che cosa succederà. Però oggi abbiamo per forza di cose da affrontare, brevemente il discorso legato alla Fiorentina, di ieri sera, perché il calcio veramente non finisce mai di essere anche se vogliamo ironico, ma anche un pochino stronzo, passatemi il termine, perché l'anno scorso la Fiorentina all'ultimo istante perde una finale con la difesa a centrocampo, e io ricordo tantissime critiche a Vincenzo Italiano perché come si fa, tenere una difesa così alta in quel momento, eccetera, eccetera. Il roraccio di Igor è la Fiorentina che prende gol. Ieri sera la Fiorentina prende comunque sempre gol nel finale, sempre veramente a un passo dall'avere la possibilità di giocarsi fino in fondo della Coppa, e con la difesa praticamente dentro la sua area piccola prende un gol di testa che neanche nelle peggiori tedesche, non tedesche squadre, ma intese come 21, il gioco in cui devi crossare e fare gol al volo. Quindi alla fine non è il modo in cui tieni la difesa in quegli ultimi minuti, è sempre la lettura della partita che fa la differenza, non c'è mai un modo univoco di arrivare al trofeo, e anzi, secondo me, qui si può aprire una parentesi enorme legata a quelle che sono state le finali europee, e delle italiane negli ultimi anni, perché oggettivamente la vittoria sì quest'anno dell'Atalanta. L'anno scorso, e quest'anno ovviamente la Fiorentina, l'anno scorso la Fiorentina e anche l'Inter in finale di Champions, con la Roma che esce in semifinale, la Juventus pure. L'anno prima, no scusate, la Juve esce in semifinale e la Roma invece perde la finale con il Sevilla. L'anno prima invece c'è ancora una volta la Roma, che vince la Conference League, e qualche anno prima ancora c'è l'Inter che perde una finale di Coppa UEFA. Abbiamo visto comunque negli anni di recente tante squadre italiane arrivare nelle finali europee e molte volte non vincerle. E torna alla mente quel ciclo della Juventus, delle finali europee, con i famosi fino al confine e robe del genere. Ecco, io credo che siano stati importanti questi anni anche di sconfitte di squadre italiane in finale per cercare di avere un po' più cultura calcistica, per fare in modo di capire che arrivare a giocare in una finale europea non è una roba da tutti i giorni, non è una roba scontata, ed è già di per sé un ottimo traguardo una finale europea, perché poi va rapportato che di che poco di finale vai a giocare. E' ovvio che la Fiorentina, che può giocare la Conference, arriverà in finale di Conference e non di Champions League. La Juventus che all'epoca era in finale di Champions League e contro squadroni come quel Reale, quel Barca, diciamo che aveva fatto abbondantemente il suo. Poi vincere non è mai scontato, sono cose che succedono. Si può vincere, certo, ce l'ha fatto vedere l'Atalanta, ce l'ha fatto vedere la Roma in Conference, sono cose che possono accadere, ma non è mai scontato vincere. Non è mai scontato vincere. Quindi spero che questo possa aver portato un po' di cultura calcistica anche nei confronti di quei tifosi che se la sono goduta forse un po' troppo negli anni precedenti. Io l'anno scorso terminavo il campionato con in testa Charles de Quetelare e dicevo, per me non può essere questo giocatore che abbiamo visto. Per me qualcosa di più c'è. Dicevo anche, non mi pare un fenomeno, ma mi sembra un giocatore che può essere davvero un buon giocatore. E quando quest'estate è stato acquistato dall'Atalanta di Gasperini e chi ha il file del fantacalcio che avevo creato la scorsa estate dove andavo a selezionare i nomi più importanti, più interessanti o di giovani che potevano fare una buona stagione ricorderà che su De Quetelare dissi, ok, attenzione al nome di De Quetelare perché con Gasperini pensavo potesse far bene, non così bene. Sono onesto, sono sincero. Così come il Bologna pensavo potesse essere la sorpresa ma non così tanto sorpresa perché poi c'è da differenziare, no? Sì, può fare bene, ma quanto bene? Cosa vuol dire fare bene? Sia De Quetelare che il Bologna che mi aspettavo come stagioni positive sono andate oltre le mie previsioni. Ecco, io questo ragionamento oggi lo faccio su Vincenzo Italiano che per me rimane un bravo allenatore con dei limiti sui quali deve lavorare deve lavorarci assolutamente infatti l'anno scorso probabilmente poteva ambire anche a panchine un po' più importanti quest'anno deve limitarsi a squadre magari come il Bologna che oggi è un bel limitarsi dato che giocherà poi la Champions League, no? Sarebbe un bel limitarsi però sono squadre sicuramente con una tradizione recente diversa da magari anche solo il Napoli che l'anno scorso aveva vinto lo Scudetto e l'Italiano Napoli era stato un potenziale un potenziale matrimonio che poi alla fine quanto pare non andrà in porto però secondo me l'Italiano non è così scarso come lo stiamo dipingendo questa è stata la peggior stagione di Vincenzo Italiano in Serie A per quanto mi riguarda anzi secondo me la Fiorentina è stata anche abbastanza una delusione quest'anno in generale per quello che è il campionato non credo avesse chissà quale tipo di rosa ma in generale forse non ce l'ha mai avuta quest'anno ci sono stati anche tanti errori suoi che secondo me hanno limitato un pochettino quello che doveva essere il percorso di crescita italiano andrà via vedremo la sua prossima strada e squadra però questo è il pensiero che oggi 30 maggio 2024 dopo la seconda finale persa in Europa di Vincenzo Italiano occhio Vincenzo Italiano perché secondo me è comunque un buon allenatore come De Chetelare non sono qui a dirvi fenomenale il migliore di tutti ma un buon allenatore che chissà potremo rivedere poi nei prossimi anni anche in squadre un po' più importanti vedremo se sarà davvero così oppure notti e poi volevo parlarvi di due notizie che sono apparse sui giornali oggi la prima ce l'andiamo proprio a leggere perché riguarda Nicolo Fagioli che ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche di quelli che sono stati i suoi mesi di stacco dal calcio possiamo dire così e Fagioli si racconta si sfoga anche si apre e dice ho perso totalmente il controllo questi sono tweet di cronache di spogliatoio che hanno riportato l'intervista a Gazzetta ho perso totalmente il controllo di me stesso nel genere 23 giocavo male mi allenavo peggio mi faceva schifo quello che stavo vivendo ma non potevo farne a meno io credo che questo sia già l'inizio di una serie analisi sulla dipendenza cioè questo veramente una frase del genere mi fa urlare dipendenza è la prima parola che mi viene in mente continua il pianto contro il Sassuolo non era solo per aver messo in difficoltà la squadra ma perché lì è scesa una cappa nera tutto scuro avevo sbagliato un pallone ma il mio errore era più grave dentro di me io ero presente tra l'altro ero presente all'uscita dal campo Fagioli è arrivato è stato uno dei primi anche ad uscire e io pensavo fosse per l'errore col Sassuolo quel suo mood abbastanza depresso e gli ho anche detto dai coraggio forza su lui mi ha guardato con la faccia proprio da cane bastonato e c'è il video mentre mi autografa la maglietta e se ne va ecco mai avrei immaginato mai potevo pensare a tutto quello che poteva esserci dietro quel pianto mi immaginavo potesse essere soltanto legato a un errore di partita non ero più padrone di me stesso il gioco mi aveva divorato la vita ero un assillo un incubo sono stato inghiottito da un vuoto che non guarda in faccia nessuno non distingue per classe sociale non premia né assolve in base al talento e per chi fa parte del mondo sportivo come Fagioli questa deve essere stata una cosa molto pesante no? perché all'interno dell'ambito sportivo è il talento l'abnegazione il sacrificio l'allenamento che ti premia lì no lì ti sei divorato e basta chi se ne frega che sei un calciatore da Juventus chi se ne frega che sei uno dei centrocampisti più forti in Rosa chi se ne frega che sei un giovane che sta vivendo il suo sogno la dipendenza questo non frega assolutamente niente mi sentivo soffocare ma non trovavo il modo di uscirne perché ho iniziato dopo 4-5 ore di allenamento ti si spalanca al vuoto se non hai altri interessi quello abisso ti attira il successo non è un'arma alla solitudine un'armatura alla solitudine io queste cose non le posso capire io non sono mai stato attratto dal gioco d'azzardo mai proprio nella mia vita in generale sì qualche schedina di tanto in tanto l'ho fatta ma sono veramente poche grattevinci poca roba cioè io proprio il gioco d'azzardo non mi attira e probabilmente la risposta è qui se non hai altri interessi quello abisso ti attira ecco io ho sempre avuto tantissimi interessi tant'è che qui su youtube ho coperto anche un secondo canale dove parlo anche dei miei interessi lato nerd di tutte le cose che mi piacciono oltre al calcio e delle quali sono sempre stato attratto solitudine poca nella mia vita perché ho sempre avuto la fortuna tra famiglia e compagni di tutto di scuola di sport di amici in generale ho sempre avuto un sacco di compagnia quindi non mi ci rivedo nemmeno qui e capisco che magari in una vita in cui poi devi dedicare anime e corpo a quelle 4-5 ore di allenamento sia difficile magari poi seguire anche altri interessi e possa finire male in questo modo qui mi ritengo fortunato sono sincero non ti consente di far rimbalzare le coltellate del tempo vuoto la noia mi ha rovinato la vita pensate a quanti attori scrittori musicisti sono precipitati in dipendenza ancora più letali e questo è tutto vero e questo è tutto vero io per fortuna sono dipendente da dal calcio dallo sport dalla Juventus in generale e dai interessi che sono collezionismo oppure ma sì è tutto legato comunque a un intrattenimento più ludico non ludopatico ludico quindi mi dispiace tanto leggere di un ragazzo al quale sono anche molto legato calcisticamente questo vero e proprio sfogo a cuore aperto ogni problema dovevo compensarlo con l'adrenalina del gioco ogni volta che usavo quel maledetto cellulare ogni giorno e tante volte al giorno mi sentivo come se fosse in campo tosta anzi tremenda non ne avevo mai parlato perché mi vergognavo quando è venuto tutto fuori è stata una liberazione quel tornado che mi ha sbattuto spalla al muro mi ha costretto a diventare più responsabile e io mi auguro veramente che Nicolò possa aver capito i suoi sbagli i suoi errori e possa terminare qui questo brutto momento mi dispiace che i tonali siamo stati descritti come due demoni io ho fatto del male solo a me stesso non ho truccato partite ho condizionato risultati ho sbagliato giocando su stile ho perso un sacco di soldi anche qui il fatto che Fagioli abbia da subito raccontato di si scommesse ma mai truccato partite o robe del genere ti dà quella piccola speranza del ok ne può venire fuori mi facevo schifo mi sentivo un cretino quando si supera questa dipendenza non lo so io non ho smesso di combatterla riaffiora ogni tanto fa sentire il suo canto seducente ma ora la domino pensando a quanto male mi ha fatto viene in mente la novella di chi era Ulisse che doveva mettersi i tappi di cera per non sentire il canto amaliante delle sirene che lo avrebbero poi portato al naufragio ecco è qualcosa di simile e anche il fatto che Fagioli non sia qui a dirti guarda sono guarito bella è tutto superato è tutto passato grande non mi succederà più secondo me questo è davvero segno di responsabilità prima ha usato la parola responsabile questa è una dichiarazione responsabile perché te lo fa capire cioè qui il re è nudo Ligolo Fagioli qui è nudo non si sta nascondendo dietro frasi fatte dietro cose dietro frasi comode no anzi ti dice delle frasi scomode che però sono la verità sperando che lui riesca davvero davvero a limitarla a combatterla ad annullarla pensando a questi mesi e a tutto questo dolore che sicuramente ha passato e a quello che è stato anche il giudizio dell'opinione pubblica perché sicuramente avrà fatto leva anche questa cosa qui so che non esiste e lo faccio una volta sola perché ti avvinghi e non ti molla più sono stati sette mesi di agonia contavo i giorni al rientro il calcio è la mia vita non buttare le giornate centinaia di migliaia di euro a rovinarmi a sentirmi in colpa sicuramente dopo che sei passato da quella roba lì non puoi dire ok lo faccio un'altra volta e poi basta devi combatterlo fine stop questo è il calcio è la sua vita io l'ho visto anche particolarmente bene in quei minuti di rientro a Bologna e da titolare contro il Monza ero lì ero allo stadio ho avuto anche la fortuna di incontrarlo a fine partita l'ho visto stanco perché l'ho visto stanco però l'ho visto più tranquillo rispetto a quel Sassuolo Juventus con quel suo errore quindi spero veramente che sia tutto finito vedremo se addirittura andrà a giocare un europeo dopo un anno di stop ricorderebbe terribilmente Paolo Rossi il mondiale dell'82 vediamo un po' che cosa succederà e poi ho un ultimo argomento di discussione e riguarda Tiago Motta perché nella giornata di oggi sto leggendo che scusate se rido però che Tiago Motta è giuntoli ora sarebbero arrivati a un punto di rottura perché adesso Tiago Motta avrebbe chiesto più soldi rispetto a quelli che invece si erano promessi e che quindi si potrebbe annullare tutto non 5 milioni con i bonus ma 5 milioni netti più bonus e allora Giuntoli è arrabbiato no aspetta Tiago Motta che arrivo ne parliamo perché così non va bene la fonte è il correre dello sport viva Zazzaroni che un paio di settimane fa disse ho sentito Giuntoli per telefono mi ha promesso che non ha contattato Tiago Motta che non arriverà Tiago Motta quindi gli credo la settimana scorsa ha detto ho sentito Sartori per messaggio mi ha giurato che Calafiori non andrà alla Juventus e che non hanno intenzione di cederlo e quindi io ci credo e oggi invece a quanto pare qualcuno gli ha giurato che Tiago Motta non sarebbe arrivato perché alla fine ha chiesto più soldi rispetto a quelli che c'erano prima ora fermo restando che la vedo molto dura come ricostruzione molto difficile che la Juventus e Tiago Motta possano arrivare a qualche giorno alla firma perché già ieri si parlava di martedì come possibile annuncio e quindi bene o male tra cinque giorni una roba del genere se secondo voi a cinque giorni dalla firma può essere plausibile che le parti si siano accorte che poi l'aspetto economico non va nella direzione pattuita in precedenza fatemi sapere se secondo voi questa cosa è plausibile perché se secondo voi questa cosa è plausibile allora io alzo le mani e dico ok sono pazzo io che mi sono messo a ridere quando ho letto stamattina se invece anche voi vi siete messi a ridere avete fatto una grossa risata e siete d'accordo con me forse e dico forse abbiamo capito un pochettino il giochino di determinati personaggi fatemi sapere la vostra questa volta nei commenti ci sono tre tematiche differenti tre argomenti di discussione completamente diversi però ci siamo io respiro quell'aria da estate quell'aria da video di calcio mercato magari video anche un po' più tranquilli discorsivi piuttosto che analisi delle partite eccetera eccetera arriveranno perché ci sono gli europei però per il momento accontentiamoci di questo ciao a tutti